Salve a tutti, io sono Mauro Micieli, sono docente aggregato di scienze laboratorie biomediche presso l'Università di Firenze e anche docente a contratto presso l'Università Unicusano nell'area biochimica funzionale, cioè biochimica e nutrizione funzionale. Bene, volevo parlare io, quella può essere la mia esperienza che ho avuto nel mio bagaglio culturale, io parto come un farmacologo, ma di fatto nel tempo sono traslato a quella della farmacologia classica a una farmacologia naturale, quindi diciamo, scientificamente parlando, mettendo un occhio diciamo molto molto culato a livello scientifico su quelli che sono invece ovviamente ciò che possiamo liberare scientificamente da nutrizionali e da estratti di piante medicinali, quindi quella che oggi si chiama nutraceutica, che è la nutrizione che appunte proprio, la nutrizione funzionale appunte con la farmacologia e soprattutto ormai in una disciplina medica e farmacologica affermata che non è più assolutamente come tanti dicono, diciamo, la scienza delle erbette, ma che è veramente scienza di fatto farmacologia della natura, che è la fitoterapia. Bene, per la mia esperienza dico solamente questo, io nasco come background a farmacologo, però la mia evoluzione mi ha portato negli anni veramente a credere sempre di più che certamente c'è il primo farmaco sia veramente l'alimento di cui ci si riempie tanto la bocca, ma di fatto è il vero primo farmaco, è la natura. Questo senza rinunciare ai farmaci quando sono essenziali, la mia natura di farmacologo mi impone anche, quando ci va ci vuole, però prima ovviamente c'è un approccio a seconda della situazione clinica che si può operare con una nutrizione, un'alimentazione di base, una nutrizione funzionale, una nutraceutica e una fitoterapia. Per quanto mi riguarda io do molta importanza soprattutto a come sono fatte le formulazioni, cioè la qualità degli estratti, la qualità del prodotto che viene formulato e soprattutto, guardate un punto molto fondamentale, la biodisponibilità, cioè la capacità veramente di queste molecole biattive di arrivare veramente a livello cellulare. Questo è fondamentale, questo non viene considerato, questo aspetto, cioè non viene considerato come dovrebbe essere. Io do molta importanza a questo aspetto invece, anche quando io mi prendo cura anche delle persone che seguo come consulenza, ovviamente come supporto non solo diciamo diretto per la prevenzione, ma anche supporto a terapia già in atto, quindi a patologia in atto, dove veramente ho visto nel tempo, negli anni, risultati veramente tangibili che hanno aiutato anche pazienti in situazioni difficili, col supporto fitoterapico e nutraceutico e anche microterapico, quindi anche usando i fingui medicinali, a superare e a molto meglio certe situazioni. Ecco questo è un po' il messaggio che vorrei dare, cioè un messaggio che fa capire che anche se una persona ha un bagaglio culturale che può venire da una farmacologia, che può venire ovviamente quella che può essere un'etica diciamo di trattamento terapeutico terapeutico, è importante che abbia una visione sempre più ampia, cioè deve avere una visione a 360 gradi per essere diciamo compreso in quello che secondo me oggi è un punto fondamentale, una medicina integrata, ma soprattutto una medicina personalizzata, cioè che metta in condizione il curante, il terapeuta di avere sotto le mani diciamo tutte le armi per poter supportare un paziente sia in fase di prevenzione appunto che in fase di supporto a terapie convenzionali. Grazie di avermi ascoltato.